Bene, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove da oggi approcciamo ad una nuova teoria. Fino ad oggi abbiamo studiato come un consumatore, attraverso il suo reddito e dati dei beni con dei prezzi, acquistasse per soddisfare al massimo se stesso, dato chiaramente il suo vincolo di bilancio. Quindi, data la sua disponibilità economica e dati i prezzi dei beni, qual era la condizione che lo faceva in qualche modo stare meglio, in termini chiaramente di soddisfazione e quindi di utilità. Da oggi invece approcciamo ad un nuovo argomento che è quello della teoria del produttore, quindi l'obiettivo cambia. Da un lato c'era il consumatore che doveva massimizzare l'utilità, qui c'è un produttore che deve sicuramente massimizzare l'output, ovviamente dati dei vincoli che non sono più il vincolo di bilancio del consumatore, ma sono i vincoli di costi, ai quali deve chiaramente sottostare. Quindi andiamo a vedere uno schema che riassume il tutto in maniera sicuramente più comprensibile. Quindi dicevamo la teoria del produttore, che ovviamente sta al ciclo di produzione in qualche modo. Il ciclo di produzione voi sapete essere composto di tre fasi. Una fase di approvvigionamento, input. Cosa sono gli input? Gli input sono i fattori di produzione o frattori produttivi e genericamente sono detti K ed L. Solitamente ne sono due, ne possono essere tre, ne possono essere quattro, ovviamente in qualche modo dobbiamo modellizzare quello che noi diciamo. E quindi è chiaro che nella realtà i fattori produttivi per un'azienda sono tanti, però dobbiamo andare in qualche modo a semplificare la realtà e quindi attraverso il modello diciamo che i fattori produttivi sono due e in particolare li riassumiamo come capitale e lavoro. Ovviamente il capitale avrà un suo prezzo, che è il prezzo del capitale solitamente detto R, perché il tasso di interesse sappiamo bene che il capitale ha un prezzo e il prezzo del capitale è il tasso di interesse, mentre il lavoro ha un prezzo che è appunto detto solitamente W, che è il salario. Anche qui la nomenclatura può variare da testo a testo, potremmo trovare che i fattori produttivi ne vengano semplicemente chiamati anche qui X e Y, come X1 e X2, dipende poi dall'approccio che si vuole dare, ma in ogni caso non bisogna farsi distrarre da queste diversità di nomenclatura, perché fondamentalmente la teoria economica vuole che i fattori produttivi solitamente siano due. Come li si chiami va bene lo stesso, ma l'importante è concentrarsi poi sul ragionamento che sta dietro la scelta ottima del produttore. Quindi i fattori produttivi che cosa se ne fa un'azienda? Li mette in produzione, quindi ogni azienda compra, si approvvigiona di fattori produttivi e li mette in produzione. Le aziende si distinguono in base proprio al modo di produrre, ovvero la tecnologia con la quale producono. E le tecnologie sono diverse da azienda ad azienda e sono identificate da una funzione, detta funzione di produzione. La funzione di produzione si sintetizza con Q di capitale e lavoro, ovvero la funzione di produzione dipende dal capitale e dal lavoro. Che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il produttore una volta approvvigionatosi di input li deve mettere in produzione e la sua tecnica produttiva sarà in qualche modo riassunta matematicamente da una funzione, detta funzione di produzione. Questa funzione di produzione può essere una funzione Cobb-Douglas, una funzione perfetti sostituti e una funzione Leontieff o a coefficienti fissi, che sono in qualche modo i nostri vecchi perfetti complementi. Bene, quindi già da qui stiamo capendo come cambiamo in qualche modo la nomenclatura, ma di fatto le variabili che stiamo analizzando sono molto simili. I fattori produttivi erano i beni di prima, la funzione di produzione era la funzione di utilità che avevamo col consumatore e chiaramente, mentre il consumatore massimizzava l'utilità, nella terza fase abbiamo ciò che invece vuole massimizzare un produttore, ovvero l'output. Quindi, una volta approvvigionatosi di input, li mette in produzione affinché si produca un output. L'output è semplicemente la quantità, ovvero il prodotto finito. Ecco il ciclo produttivo ed ecco ciò che il produttore deve tendere a fare al meglio, quindi approvvigionarsi al meglio, produrre al meglio affinché si produca il massimo output. Ma andiamo chiaramente a concentrarci soprattutto sulle funzioni di produzione, che sono poi quelle che daranno il via agli esercizi che ci richiedono solitamente in fase d'esame. Chiaramente abbiamo riconosciuto Cobb-Douglas, perfetti sostituti, Leontif, perché già l'abbiamo trattato nella teoria del consumatore, ma rivediamoli in ottica chiaramente del produttore. Partiamo dalla funzione di produzione Cobb-Douglas, una funzione di produzione che ha la particolarità di essere una moltiplicativa esponenziale, quindi solitamente K alla C per L alla D. Quali sono le particolarità di questo tipo di funzioni di produzione? Anzitutto, come vedevamo anche per il consumatore, le funzioni di produzione Cobb-Douglas sono contraddistinte da un isoquanto strettamente convesso. Cos'è l'isoquanto? L'isoquanto è la curva che rappresenta questa tecnologia, è un po' la curva di indifferenza del consumatore in qualche modo. Quindi l'isoquanto è quella curva sulla quale risiedono tutte le combinazioni produttive, per esempio impiegherò un tot di capitale e un tot di lavoro, questo è chiamato combinazione produttiva, ma questa ne è chiaramente un'altra di combinazione produttiva, magari L1K1. Quindi, qual è l'uguaglianza tra queste due combinazioni produttive, dato che stanno sullo stesso isoquanto? Lo dice stesso la parola, isoquanto, stessa quantità. Nel prossimo video andremo subito a vedere quali sono gli esercizi tipici per quanto riguarda funzioni di produzione Cobb-Douglas. Lascio ai vostri esercizi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!